Buongiorno amici di Camper Emotion, siamo in Abruzzo e precisamente a Scanno che vedrete in questo video con la sua area di sosta del peschio pizzuto dell'Agritour e poi una fantastica cena contadina. Finiremo con il sentiero del cuore da dove si vede dall'alto il lago. Questa è Scanno, nella sua semplicità è bellissima. Ci sono degli scorci spettacolari con questi archi che passano sotto le case e questi balconcini tutti in ferro battuto. Guardate che spettacolo, questa è l'Italia più antica. Guardate che bei palazzi. Chi è Marghera? Chi hai trovato? È un po' da piccola. È più grande di te questa qua. Un attimino sì. E su questi paesi medievali si sale, si sale, si sale. Un po' di scale, un po' di salita. Altro che barriere architettoniche che abbiamo in città. e questo è il paesaggio da una stradina di Scanno. E qua anche una bella piazzetta con le sue scalinate. in mezzo vengono su anche con le macchine. Però ci sono di quei posti che purtroppo sono sempre tenuti per l'economia, per queste cose. Sono sempre un po' da rinnovare. Sarebbe bellissimo. Guardate che portali. Che vicoletti. Veramente Scanno è stupenda. Qui siamo in vicolo della Codacchiola. E' ancora un arco con delle pietre antiche, chissà di che anni sono. Perché questi paesi sono tutti medievali. Che dà anche su un'altra bella piazzetta uno slargo. Guardate che bel rosone su questa casa. Guardate che bel rosone su questa casa. Guardate che bel rosone su questa casa. Vediamo insieme ad altri pietre antiche, con le scuole di sottofattimento. Questo è il mio uomo. E' un po' è il mio uomo. perché siamo un attimo depressi e margaret volevamo visitare l'abruzzo e fare molte passeggiate andate andare fino a campo imperatore e questo quell'altro però guardate guardate la situazione com'è la neve è bassa noi siamo alti siamo circa 1250 c'è un freddo non so come dite dalle vostre parti in alto aglio si dice freddo becco e stiamo pensando di scappare dall'abruzzo ci rimarrà nel cuore torneremo assolutamente però questa neve qui ci sta dando veramente problemi e siamo sui 1500 c'è la neve oltretutto c'è un vento sempre forte che accentua la temperatura e oggi decidiamo che cosa fare domani mattina se il tempo ci permette volevamo fare il sentiero del del per andare a vedere il lago di scanno dall'alto vediamo e poi forse andiamo verso la costa e torniamo verso il lato adige purtroppo in anticipo eccoci qui all'agricamping con tutti gli asini che ci aspettano ed ecco arrivati staremo qui un paio di sere siamo a circa 1300 metri e abbiamo qui una colonia di asini che ci gira intorno al campo il proprietario ci ha detto che avevano un centinaio di pecore però adesso praticamente l'orso gliele ha fatte fuori tutte e stanno facendo questo allevamento di asini purtroppo per fare un menù a base di carne di asino a base di carne di asino buongiorno ragazzi stiamo scendendo verso scanno qui siamo proprio all'inizio del sentiero del cuore che si va un po in quota e poi si vede il lago di scanno fatto a forma di cuore come in questo tabellone che vedete alle mie spalle e adesso andiamo su qui c'è freddo anche oggi oggi è il 16 ottobre e partiamo quando venite qui chiedete il paese a scanno dell'hotel roma e poi da lì ci sono tutte le indicazioni ecco il sentiero è così è abbastanza facile magari non con i passeggini però si sale bene tra poco arriviamo ricordatevi sempre quando si fanno questi sentieri seppure semplici abbigliamento un po tecnico scarpe adatte questo è un sentiero medio facile allora un'indicazione vedete dov'è scanno quando fate il sentiero del cuore venite su fino a questa fontanella per il sentiero del cuore però poi non prendete questo sentiero che va in su ma prendete questo sentiero dove c'è questo pozzo chiuso e andate avanti dritto da questa parte in dieci minuti si arriva al punto panoramico che tra poco vi faremo vedere ed ecco qui per l'altro sentiero invece quello che va in su non quello del potto dopo 50 100 metri si arriva qui questo è l'eremo di Sant'Egidio è chiuso non si può visitare e è solo una specie di chiesetta qui con la vista verso Scanno anche qui da dietro l'eremo se lo prendete sulla destra c'è questo sentiero che vi può portare anche al punto panoramico ma quello più diretto è dalla fontanella verso quel pozzo chiuso ecco dal punto panoramico perfetta forma a cuore del lago di Scanno oggi anche il tempo ci ha aiutato Camper Emotion dedicato a tutti voi ce l'abbiamo fatta chi da due la vince abbiamo raggiunto il cuore eccolo qua ragazzi guarda che bello ed eccoci arrivati al lago a forma di cuore appunto panoramico è stato un po' difficile ma per voi e per Camper Emotion faremo questo e altro e queste sono le case più grandi più moderne di Scanno anche molto belle sono dei condomini però fatti un po' a villetta ecco il gran sasso in lontananza bello pieno di neve iscriviti al canale